Una ragazzina di 13 anni sarebbe stata palpeggiata nei bagni della scuola da un bidello di 50 anni. La molestia, secondo quanto dichiarato dalla studentessa e da un compagno di classe, sarebbe avvenuta nel 2015 in una scuola media dell'Alta Padovana. Il bidello l'avrebbe afferrata ad un braccio, abbracciata e toccata, con la scusa di consolarla per un amore finito. L'episodio è stato poi raccontato ad un altro ragazzino. Lo studente lo ha confessato ai propri genitori, che non hanno esitato a chiamare quelli della ragazzina. Poi è arrivata la denuncia. L'operatore scolastico è stato rinviato a giudizio per violenza sessuale pluriaggravata. La studentessa, a causa del trauma subito, è andata in cura da uno psicologo. Un copione identico si era verificato con un'altra ragazzina di 13 anni. Al tempo, per il bidello, poi condannato, era scattata anche la sospensione dal servizio con l'applicazione di una misura interdittiva.